Ormai sono passati giorni da quando i morti sono ritornati in vita. Addio famiglia, moglie, figli, addio casa. Ho perso tutto e sono rimasto da solo. Non sono riuscito a proteggere ciò che amo. Mi manca l'aria ogni volta che ci penso. Mi ero rassegnato, credevo che la mia vita fosse finita qui. Ma qualcosa è cambiato. I telegiornali erano pieni di servizi su grandi eroi che provavano a salvare l'umanità. Grandi persone che hanno combattuto fino alla fine per noi. È stato lì che qualcosa era cresciuto in me. Un sentimento, una forza che dovevo seguire. Non potevo starmene con le mani in tasca. Dovevo fare qualcosa anche io. Avevo scoperto che nella città dove mi stavo dirigendo c'erano altri sopravvissuti. Per me quelle persone erano vite da salvare. Dovevo proteggerle. Non sono riuscito la prima volta con la mia famiglia. Non fallirò di nuovo. Non stavolta. È arrivato il mio momento. Riuscirò a sopravvivere. Non è una scommessa. Sono riuscito ad arrivare in città ma l'auto ha avuto dei problemi e sono stato costretto a nascondermi in una casa. E qui, ora, inizia la mia storia. Questa non è la storia di come sono morto. Finalmente sono riuscito a scappare e riposare. È stata dura nascondersi dai zombie e per il momento cerco di riorganizzarmi e vedere un po' la situazione in giro prima di cercare altri sopravvissuti. In questo momento credo che dove mi trovo adesso sia il sicuro ma preferisco comunque prepararmi con una mazza. E in più ho trovato una penna che è utilissima attualmente per assegnarci un po' la città. Attualmente io non conosco nulla di questo posto, di questa città. Quindi farò tanta fatica a spostarmi. Intanto mi segno la mia partenza per capire effettivamente dove mi trovo. Con il problema all'auto, con la situazione che si è creata, non sono riuscito un po' a capire, a orientarmi più che altro dove ero. Intanto spero di non finire nei guai e di fare le cose con molta calma. L'importante adesso è trovare un po' di cibo, che ne sono veramente accorto. E un po' di oggetti che magari ci serviranno per il futuro. Ad esempio, cavi elettrici e batterie possono essere molto utili in questo caso. Dovrei trovare anche del cibo e cucinarmi. Oh cavolo. Iniziamo malissimo. Questo frigo è anche vuoto. Probabilmente mia moglie mi avrebbe fatto trovare qualcosa di buono. Ma... Ora devo cavarmela da solo e devo provarci. Attualmente... Ok. Per ora ho trovato poca roba. La situazione non è per niente facile. E qui l'attenzione si fa sentire. I zombie alla porta mettono un po' di ansia. Forse credo sia il momento di uscire da qui. E cercare un posto migliore. Qui non c'è molto. Più che altro... Ho la battiglia di acqua e patatine. Quindi dovrei essere un po' tranquillo per ora. Riempiamo la bottiglia. E iniziamo la nostra avventura. O più che avventura... Il nostro film di paura. Credo che il tempo sia buono per... Per girare. Vedo... Poco nuvoloso. Quindi... Cavolo c'è uno zombie. La situazione qua si fa critica. Ci sono un po' di zombie in quest'area. Mi sa che l'orda che... Ho provato a seminare... È comunque nei paraggi. Devo fare attenzione. Magari con il suono del veicolo che si è schiantato. Ha tirato un po' di zombie in giro. Devo fare... Totalmente attenzione. Ce ne sono tanti. Cavolo. La situazione si fa difficile. Speriamo che... Sia come... Ho sentito alla radio. Ho visto in tv. Che i zombie... Siano... Che in questa città ci siano altri sopravvissuti. E non solo zombie. Intanto ho trovato un orologio importante. Ok. Sono le 10 del mattino. Almeno sappiamo l'orario in questo momento. C'è ancora uno zombie. Lo stesso zombie di prima che batte. Vedo che comunque... I veicoli... C'è qui un veicolo ma... Credo che sia veramente messo male. Infatti la porta non si apre. Cavolo. Devo fare... Il meno casino possibile e farmi notare. E non farmi notare dai zombie. Non voglio rischiare... Di attirare un'orda nei miei confronti. Confronto un attimo la mappa con quello che ho visto. E... Vediamo un po'. Dalla mappa che ho trovato. Sopra c'è una struttura che non conosco. Proviamo a vedere di cosa si tratti. Però... Prima ho visto quell'orda e... Mi preoccupa... Di trovarmi... In difficoltà. Adesso... Ora come ora... Ho bisogno sicuramente di... Prendere un po' di cibo perché... Non ho molto cibo... Non ho molto cibo... E rischio... Di morire di fame e rimanere senza cibo. Però vedo... Sono anche fortunato. Mi sa oggi. Forse è la mia giornata fortunata questa. Ok. Fortunatamente abbiamo trovato un supermercato con della roba fresca. Ottimo. Prenderò il possibile o quello che posso portare perché... Credo che... Non avremo un'altra occasione del genere. Un'occasione... Così buona si può dire. Che troviamo così tanto cibo. Anche la roba in scatola ottima. La roba in scatola soprattutto. Può durare molto rispetto al cibo... Naturale. Cioè naturale nel senso non lavorato. Intanto non so se riuscirò a prendere tutto. E ho un po' di fame. Fame. Non poca. Non credo che riuscirò a portare tutto questo peso. Cioè troppa roba. È un peccato perché tutto questo cibo... Tutto sto cibo spero che non venga buttato... E che ci siano veramente altri sopravvissuti. È veramente un peccato abbandonare tutto questo cibo. Ma non posso rischiare di portare troppe cose... E stancarmi. Cazzo. Una zombie. Ok. Mamma mia c'è un altro addirittura. C'è anche un... Ci sono anche dei sacchi di pesca. Questi oggetti sono importanti. Magari possiamo segnarci... Questa zona possiamo segnarcela come... Per riprendere del cibo se in futuro non troviamo altro cibo. Credo che sia importante tenere sotto controllo quest'area. Segniamoci intanto questa zona. Non vorrei assolutamente... Assolutamente... Sprecare del cibo. Così buono. E non so se ne troveremo altro. Quindi ci conviene intanto... Proteggere questa struttura. E eliminare anche questo zombie. Ricordo quando... Andavo al supermercato con la mia famiglia. Erano giorni tranquilli quelli. E adesso pensarci ogni volta... Fa veramente veramente male. Anche se sono abituato... A vivere da solo. Visto che... Nella mia adolescenza... Vivevo in campagna i miei genitori. Lavoravano sempre tanto. Per me... Rimanere solo non è un problema. Ma aver perso la famiglia... Quello sì che è un problema. Intanto... Qui c'è un'altra... C'è un'altra posto. Cavolo... Questo è un ospedale. Potrebbe essere... Interessante. C'è un'orda. Non posso attirare un'orda. Vicino a una struttura del genere. Credo che la miglior cosa... È segnare un altro punto qui. Poi... Magari... Prossimamente... Troveremo... Verremo qui a prendere medicinali. Se non... Se non ci saranno altri sopravvissuti. Fare scorte. Io ovviamente non li giudico. Posso capire... Saccheggiare tutto. La cosa più importante... È che comunque... È il mio obiettivo... È trovare altri sopravvissuti. È creare un gruppo per sopravvivere. Questa è una cosa molto importante. Intanto... Cerchiamo... Di capire che... La cosa importante... È avere del cibo portato a di mano. Veramente importante. Ci sono delle auto qui... E direi... Di controllarle. Magari troviamo una chiave... E c'è una chiave all'interno. Cavolo... Se avessimo un po' di benzina... Ok... Possiamo segnarci che qui abbiamo trovato anche un veicolo funzionante. Siamo... Fortunati forse. E eccoci con una bellissima pubblicità di The Honor Red. Non scappate che si parla del mio Patreon. E spiegheremo a cosa serve. Prima di tutto ragazzi vi mostro subito... La pagina del mio sito. Per farvi vedere un po' come funziona. Ci sono vari tipi di abbonamenti. E vi spiego adesso a cosa servirà. Serve per... Sono fondi che noi useremo. Perché non lavoro da solo al mio canale. Ma ci sono altre persone. Tutti questi abbonamenti. Tutti i sostenitori del mio Patreon. Sono soldi che useremo per i progetti. Dei miei video. Tra cui una delle prime serie che stiamo facendo. È Project Zomboid RP. Proprio questa serie che state seguendo. Ci saranno altri progetti che porteremo avanti. Appunto sono scritti qui ragazzi. Mettete pausa al video e date un'occhiata veloce. Senza che allunghiamo troppo il brodo. L'unica cosa che voglio dirvi. Se mi supportate è. Riuscirete a dare una mano a tutti noi. Che lavoriamo a questi progetti. Vi giuro che i video avranno sempre una qualità maggiore. In qualsiasi contesto. Detto questo. Vi auguro una buona visione. Arrivederci. Grazie. Che questa sia la volta buona che la vita sia grata. Ci voglia proteggere. Dopo tutto quello che ho perso. Un po' di fortuna. Non farebbe male. Addirittura ho trovato due auto. Questa è una cosa buonissima. Però diamo una controllata magari se i motori funzionano. Anche se in realtà non sono bravo. Però un'occhiatina possiamo provare a darla. Ok. Non ci capisco molto ma... Credo che... A camminare cammina. Speriamo che in questa città conosca un sopravvissuto meccanico. Magari ci potrebbe aiutare a far funzionare queste auto. Più che funzionare magari ripararle in futuro se ci sono problemi. O se hanno problemi. Trovare delle chiavi così in questo modo non credo che sia una cosa di tutti i giorni. Bene. Ora abbiamo un obiettivo ragazzi. Adesso abbiamo veramente un buon obiettivo. Trovare della benzina. Oltre a trovare dei sopravvissuti Trovare della benzina per queste auto Non sarebbe male. Intanto Cerchiamo Di eliminare un po' di zombie Che ci seguono Perché non vorrei sorprese Sinceramente. Proverò ad andare verso nord Per vedere se riusciamo a trovare magari Un posto dove fare benzina. Solitamente magari Si trovano Dov'è che posso trovare i benzinai? Sulle strade principali. Proviamo Per quest'area mi sembra tutta zona residenziale Quindi credo Che Destro-sinistra Dai andiamo verso Est Verso destra in questo caso Cavolo C'è un'orda di zombie Forse è meglio Non affrontare questi zombie C'è un'altra orda Cavolo Qui la situazione Non è per niente Buona Ci sono troppi zombie La situazione è critica Dalla radio dicevano Che questa zona era più sicura Delle altre Non devo farmi unire il panico Non devo farmi unire il panico C'è sempre una soluzione C'è un'orda veramente grande Dobbiamo trovare un modo per scappare Possiamo trovare un'ottima soluzione Ci sono delle abitazioni Qui proviamo Vedere se c'è qualcuna aperta E Magari scappare da un'altra porta Proviamo Ti prego Dimmi che la porta è aperta Perfetto Forse questo è stato uno dei momenti peggiori per me Ho rischiato veramente Veramente di morire Non posso mai dimenticare Le urla di quei zombie Fuori la casa Che sbattevano le porte Rompevano le finestre E volevano assalirmi E mai dimenticherò Quelle ferite che mi hanno lasciato I zombie che si trovano appunto nella casa Mi hanno Quasi Ucciso E credo che fosse questo è stato uno dei Momenti in cui Ho apprezzato veramente la vita E ho capito che La mia vita fosse Così tanto importante Ma anche quelle delle altre E con queste ferite Ho capito cosa ha provato La mia famiglia A essere assaliti da questi esseri Con violenza Con crudeltà Le immagini che Sono nella mia testa Non le dimenticherò mai Mai dimenticherò Come Tutti Fossero morti Squartate Squartate Disintegrate Ma proprio per questo Che ho capito Che è arrivato il momento Di sopravvivere Veramente Che è arrivato il momento 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 Devo trovare un posto Un'altra ordana, non ci credo Veramente sfortunata la mia giornata Meno male che avevo detto che era fortunata Immaginate se fosse sfortunata Cavolo La situazione è veramente orribile per me Sono anche un po' stanco Avrei bisogno di riposare Credo di aver scelto la strada sbagliata Per dove scappare Cerchiamo di mangiare un po' Evitare la fame In questo caso Dobbiamo abandonare anche questa casa Dobbiamo fare attenzione Speriamo di non incontrare un'altra ordana Oh! C'è qualcuno! Ehi! Chi sei tu? Io sono in cerca di qualcuno Ehi! Anche io sono in cerca di qualcuno Io sono in una situazione critica Sono stato graffiato da un paio di zombie Sono veramente messo male Ho perso tanto sangue E non sono in condizioni per... Siamo in lontano Non sono stato morso, ve lo giuro Te lo giuro se vuoi faccio controllare Lo so che non puoi fidarti Lo so che non puoi fidarti Puoi controllare con le mie ferite se vuoi Ti permetto di controllarmi Non ti dico nulla Controllami Ma stai fermo, sto controllando Stai fermo No, sto... Non mi muovo Non mi muovo, tranquillo Ok, vedo che non hai nessun graffi per il momento Non sei infetto Non sono ferite infette Sono solo dolorante Per caso hai delle medicine e degli antidolorifici? Eh, no, no Non ho trovato niente Va bene, lo posso capire Io in questo momento sono in pessime condizioni E avrei bisogno di riposare Hai un posto dove nasconderci Perché ho un orda dietro E non credo che sia un bene rimanere qui Magari dopo possiamo presentarci Dopo che abbiamo trovato magari un posto buono Per nasconderci Ok, ok Va bene Dove... Da dove vieni tu? Se posso permettermi di chiedermelo questo Io dei boschi Vivevo nei boschi Una città nei boschi Ah, ok Quindi vieni da questa città? Sì, sì Nato qui o sei nato in un altro posto? No, sono nato... Qui Sei nato... Ah, ok, sei nato qui Qui Mi ero andato via per... Per il lavoro Poi sono tornato Io... Ah, va bene Posso capire Va bene, va bene Nessun problema Guarda, io ho letto una cosa Se a voi te la passo Ho trovato una mappa Che non conosco questa città Non so se la conosci tu Se vuoi le informazioni Un allarme? Un allarme Meglio lasciarci dentro qua Dentro casa Sento dei zombie Fai presto Arrivo Da dove vieni? Io non sono di questo posto Ma vengo proprio fuori Da questo stato Sono scappato Perché Dalla televisione E dai giornali Si diceva Che in questo stato Nelle mie vicinanze Era molto più sicuro Degli altri Dove... Da dove vengo C'è un orda qui Occhio, occhio Torna indietro Torna indietro I zombie sono stati attirati Cavolo Questa è anche una chiesa Non credo che sia un posto buono Per nascondersi Arrivano Ho contratto 5 case Ma non ho trovato nessun'acqua 87 Poi possiamo provare Vieni qua con me Riesci a scavalcare? Si Ce la fai? Si ce l'ho fatta Ok Tu sai nessuno Se c'è ancora qualcuno vivo C'è qualcosa? Ok, ci sono due zombie Non combattiamo nei boschi È pericoloso Ok No, non ho trovato Sinceramente nessuno Sono a ricerca anche Di sopravvissuti Per Appunto Il sopravvivere il più possibile Occhio, ci sono dei zombie qui Fai attenzione Attenzione Comunque io Ho delle buone notizie Da dove Dove ero io prima C'erano veramente Pochi zombie Possiamo dirigerci lì Se voi Io ho trovato due auto funzionanti E Anche un Una clinica Potremmo prendere Medicinale per me appunto Io sono un meccanico Quindi Ah, sei un meccanico Perfetto Perché le macchine Non so se sono in buone condizioni Controllate Ma non ne capisco molto Più che altro Ero alla ricerca di benzina Per vedere se si accendevano E se voi Possiamo controllare io Se voi Possiamo dirigerci lì Però non siamo molto Siamo molto lontani Per adesso Non so se riusciamo A arrivare in tempo Eh, forse è meglio Se per oggi ci posiziamo In una casa Sì E anche buio Però Qui dobbiamo fare attenzione Ci sono veramente Veramente tanti zombie Eh sì Ho notato Ecco Ve senti un altro zombie Cosa possiamo fare? Ah, qui la porta è rotta Cazzo Possiamo ucciderlo È più di uno Occhio È più di uno Stanno entrando da dietro Ti senti? Sì Proviamo a ucciderli Possiamo usare Magari questa casa Per il momento Almeno per riorganizzarci Quanti zombie sono? Eh, un bel po' Due, tre saranno Cazzo Atterriamone Ok Atterriamone Per il momento Ok, perfetto Perfetto Ok C'è un orologio digitale Io lo prendo perché Preferisco Perfetto Perfetto va bene Io direi È chiusa questa porta Ok, entriamo dall'altro lato Se ti serve un orologio Prendi questo se vuoi Grazie È tardi Eh sì, è abbastanza tardi Gli orologi ci aiuteranno molto in queste cose Ok Allora Scusami per la mia pessima presentazione Ma ero terrorizzato Ma ero terrorizzato Dei zombie E non mi sento molto bene E riposiamoci Non è stata una giornata È stata una brutta giornata Sì Ci conviene chiudere le tente in caso E comunque chiuderci in una stanza Dobbiamo trovare una cucina Questa è un'altra stanza da letto Ok, io chiudo Chiudere Se ti devo cosa mangiare dimmelo No, il cibo Non sono a posto In caso possiamo bere dalla cucina Avevi detto che avevi sete, no? Sì, sì Vediamo C'è la luce Ok, perfetto Che cazzo questa acqua Oh, c'è un po' di cibo Se tu ne hai bisogno C'è un po' di cibo Ok, allora approfitto di mangiarmi un po' io di cose Per riprendermi dalla fatica Comunque Ho piacere Io mi chiamo John Tu come ti chiami? Piacere, Carlo Ciao, Carlo Ah, quindi sei per caso italiano C'è un apri scatole, perfetto Ho trovato un apri scatole Ottimo Quindi, scusami, scusami l'interruzione Quindi sei italiano, ma Sì Da quanto tempo vivi qui? Eh, io sono nato qui Ah, sei proprio nato qui Ok, quindi i tuoi genitori sono italiani? Genitori italiani, ma io sono nato qui Ah, perfetto Per il lavoro sono andato fuori città e poi sono tornato Ah, ok Quindi tu fai il meccanico e sei andato fuori città per lavoro? Sì, sì Ah, va bene, va bene Anche Luigi, mio padre era meccanico Ah, anche tuo padre è meccanico Tu, se posso chiederti Dov'è tuo padre? Mica è morto per caso? Io li sto cercando, per questo sono andato in questa città Ah, ok, quindi sei ritornato per cercarli Sì Io invece, magari spero di non annoiarti con una triste storia Io invece ho perso tutta la mia famiglia I miei figli e mia moglie sono morti Davanti a miei occhi mangiati Sono purtroppo, sono... Non credo che io sia l'unica persona che abbia perso qualcosa Qui c'è un bagno, se ti serve l'acqua per bere No, ho già fatto, grazie Comunque... Io ho una bottiglia di acqua, non so se tu ce l'hai Però se hai bisogno, chiedi pure, senza problemi Ok Allora, io pulisco Io vi ricordo la strada dove lavorava mio padre Ah, quindi tu... Ah, quindi... Sì, dovrei andare a vedere se c'è ancora là mio padre, oppure no Ah, ok, quindi hai... Hai questo in mente da fare, per il futuro Eh, sì Il mio obiettivo sarebbe questo Per questo ho tornato Lo posso capire, lo posso capire Io, guarda, ti direi... Un attimo solo che mi faccio una sciacquata Non so se tu hai bisogno di lavarti Ma sono veramente sporco Ho ammazzato un bel po' di zombie in questo momento Ed è stato veramente difficile Scappare da quell'orda Ho avuto veramente il terrore di morire Che per un momento mi si è ghiacciato Il cuore e la gola e non riuscivo più a parlare Eh, anch'io Da quando ho visto questi zombie Tutto è cambiato Anche, sì, anche questo ha portato a un grande cambiamento Io non so se tu hai visto dalla radio o dalla televisione Mentre venivi qua Ma io dalla radio e... Ero arrivato in una casa in campagna E c'era la tensione che funzionava Si è parlato proprio di questa città Che c'erano vari sopravvissuti che hanno... In questo stato, scusami, non solo questa città Che c'erano vari sopravvissuti Proprio anche forse dell'ordine Che hanno provato a salvare varie zone della città Tra cui anche questa Che, se mi sbaglio, questa città si chiama Moldraug Non la conosco bene, sincero Sì, sì, lo dico io Sì, sì Quindi... Guarda, anche io ho un obiettivo Io ho... Il mio obiettivo è trovare altri sopravvissuti E creare un... Non una nuova famiglia Ma comunque... Un futuro per le altre persone Per chi magari non l'ha visto come i miei figli O chi è morto comunque a causa degli zombie E per proteggere le persone in difficoltà anche Sì, questo è il mio obiettivo Quindi... Se vuoi ti dico anche questo Che per me è importante Se hai bisogno di aiuto a trovare la tua famiglia Io ci sono Non ho nessun problema a venire con te Che ne dici se formiamo un gruppo? Per me va bene Ma io ripeto Cioè... Ci siamo incontrati... Per puro caso Oggi Per puro caso Per puro caso E oggi Non posso fidare molto di te al 100% Lo so, immagino che non ti possa fidare Io sono un po' così come persona Sono capace di rimanere solo Ma ho tanta voglia Tanta voglia Di credere nelle persone Di creare qualcosa di nuovo Io sono qui Per creare un nuovo futuro So che non ti fiderai di me Ma spero col tempo Tu possa comprendere Conoscermi e comprendere chi sono veramente Spero che col tempo potremo conoscerci In questo caso Che ne dici se Se diamo un'occhiata magari Proviamo a vedere Se riusciamo a trovare qualcosa di utile Un po' Qui in giro Prima magari Di dormire O di riposare Sì, sì Provo a trovare Ah, vedi Ho trovato degli oggetti Ho trovato Delle lampadine in realtà Un nastro E una torcia Torcia Questo veramente è buono Ci può servire Se dobbiamo fare Qualche escursione notturna Se vuoi Ho un Una penna Una penna Se vuoi Una custodia per pistola Ah, è una custodia per pistola No, guarda Se vuoi tenerla tu Proprio per anche mostrati Che puoi fidarti di me Tienila tu Che magari se in futuro Troviamo una pistola Te la lascio anche Non voglio Voglio proprio dimostrarti Che comunque Ti puoi fidare Di me E non voglio Assolutamente Crearti problemi Comunque C'è un problema Abbiamo bisogno Di andare In quell'ospedale O almeno Trovare qualcosa Di alcolico Una delle mie ferite È un po' Infetta Credo che abbia bisogno Di disinfettare Dovremmo andare Sì, sì Credo che sia meglio Però aspettare La fine della notte Magari A primo mattino Scappare Aspettiamo domani Aspettiamo domani Io tanto Sulla mappa Ho Tutte le informazioni Per arrivare In quella zona Te l'ho detto Ci sono veramente Pochi zombie C'è una farmacia Ho trovato anche una zona C'è altro cibo Non sono riuscito A prendere tutto E ci sono due auto funzionanti Quindi potremmo Quindi potremmo effettivamente Intanto andare lì Come obiettivo E provare a A rimanere lì In quel caso Sì, sì Intanto Io direi Di riposare Se vuoi Dormire in le stanze separate Per me va bene Eh Sta com'è Mi fido molto Vai tranquillo Io scelgo Questa stanza Ok Io prendo l'altra Bene A domani E buonanotte A domani Buonanotte E 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 buonanotte Grazie a tutti.